Quando ad agosto il decreto sviluppo è diventato pienamente operativo, il Governo nazionale non ha nascosto la sua soddisfazione parlando di altro tassello all'agenda della crescita, ma gli esperti che lo hanno studiato attentamente non lo considerano esattamente tale. Il sviluppo è in questo caso un aggettivo un po' azzardato. Potremmo parlare di decreto per la crescita, non nemmeno di decreto crescita, decreto per la crescita che va inquadrato in una manovra molto più ampia che il Governo sta proponendo in questi ultimi mesi. Il decreto sviluppo e le agevolazioni al suo interno rivolte alle aziende sono state al centro dell'incontro organizzato a Campobasso dall'Associazione Piccole Imprese del Molise. Ecco alcune delle novità illustrate. È stata reintrodotta l'imposta sul valore aggiunto sulle gestioni di fabbricati detenuti da lungo tempo dalle imprese di costruzione. Sono state introdotte delle norme in materia di lavoro e di apprendistato, sono state introdotte una normativa molto interessante per quanto riguarda il cosetto criterio del pagamento dell'IVA dopo che si sono esatte le fatture. Ci sono una serie di opportunità che le imprese potrebbero cogliere. Non da ultima l'introduzione della tipologia di società responsabilità limitata semplificata e l'altra tipologia capitale ridotto. Ma basterà il decreto sviluppo a far uscire le imprese molisane dalla crisi? Io ho molta fiducia nel territorio molisano perché noi abbiamo dei presupposti sociali abbastanza di tranquillità sociale che ci invidiano. Il nostro problema è che abbiamo una difficoltà oggettiva di fare numeri. Le imprese hanno bisogno di numeri, hanno bisogno di mercati un po' più allargati. Grazie. Grazie. Grazie.